non riesco a crederci, è nato finalmente i cake saranno davvero molto orgogliosi sarà una cavallina o un puledrino voglio vedere il piccolo Pony, voglio vederlo presto, qual è? ecco nostro figlio, Pound Cake e nostra figlia Pumpkin Cake due puledrini gemelli con cui giocare, oh ma ma questo non dobbierà il divertimento è il giorno più bello della mia vita, dobbiamo festeggiare la vostra nascita piccolini siamo tutti felici del vostro arrivo i pepè stanno cercando di dormire ma volevo solo... tanti, tanti auguri a te, anche a te ma com'è possibile che uno dei due gemelli sia un Pegasus e l'altra un unicorno? è semplice, il mio bis 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 nonno era un unicorno mentre il cugino di terzo grado della bronzia di cupcake era un Pegasus è tutto chiaro, no? ma certo, vedrete che non appena il piccolo Pound Cake spiegherà le ali non starà un attimo fermo state attenti anche a Pumpkin Cake i piccoli di unicorno hanno dei poteri magici che vanno e vengono presto, esprimete un desiderio, spegnete le candeline, è facile perché non ce ne sono avete zero anni dopo tutto guà... ahahahahahahahahahahahahahahah Buon mesi versario a te e anche a te Come vola questo tempo? Già da un mese siete qui Mi sembrava solo ieri ed invece ecco qui Da oggi avete un mese in più Siete pronti per fare il vostro gioco preferito cucciolatti? Dov'è Pinkie Pie? Eccola! Dov'è Pinkie Pie? Eccola! Dov'è Pinkie Pie? Eccola! 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 Sta andando tutto bene qui? Io ho bisogno di un cambio di pannolino? Nessun problema è tutto a posto In effetti Eccomi arrivo C'è qualche ponio affamato per caso? Io no grazie Ho fatto una colazione appuntante Ci penso io Oh, state giocando a fare le facce buffe Guardate qua No, vedi Pinkie I piccoli devono fare il ruttino Siete a posto adesso? State bene? Attimo Chi vuole giocare ancora? Ah 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 pancake E' un po' presto per usare il... Ah 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 pumpkin cake Non si mettono le cose in bocca Tranne il cibo Cibo Per tutti i bastoncini di cannella Ce ne siamo dimenticati Ma gli avete appena dato il biberon Ricordate? Non intendevo il cibo per i gemelli Già Quello per il grosso ordine Che ci siamo impegnati a consegnare per oggi Grazie